Come sapete l'attività preventiva e repressiva sono il core business dell'Arma dei Carabinieri. Per me è fondamentale che ci siano diverse pattuglie nel territorio, che si concentrino soprattutto nelle zone più degradate e più sensibili, in modo tale da far percepire al cittadino la presenza delle istituzioni. L'attività repressiva ovviamente rappresenta anche qua un punto cardine per l'Arma dei Carabinieri e porteremo avanti le investigazioni già iniziate contro il crimine organizzato, ma anche contro la criminalità comune, che forse è quella più fastidiosa per il cittadino. Come sapete io sono arrivato da un mese, ho già lavorato in questo periodo in maniera abbastanza impegnativa per quanto riguarda il G7 con le altre forze di polizia e con gli altri enti istituzionali. Per me è fondamentale la collaborazione con loro, ho visto che c'è un ottimo ambiente, che cercheremo ovviamente di portare avanti in questo senso. La provincia di Siracusa io la conosco ovviamente da turista, è una provincia ricchissima, è una provincia votata soprattutto al turismo, che ovviamente però ha anche i suoi problemi, i suoi problemi di carattere di ordine e sicurezza pubblica. Al momento il tessuto sociale mi è sembrato un buon tessuto sociale, ovviamente ci sono delle situazioni che vanno attenzionate e noi su quelle ci concentreremo. Il mio predecessore mi ha parlato delle attività investigative in corso e mi ha rassicurato ovviamente sui buoni rapporti istituzionali che lui ha avuto qua in provincia di Siracusa ed effettivamente è così, ho trovato un ottimo ambiente. Grazie a tutti.